Siamo con Letizia Piva, direttore artistico di Minimi Teatri, perché oggi si presenta ufficialmente il laboratorio teatrale di Minimi Teatri. In cosa consiste? Consiste in un percorso di formazione per un gruppo che ormai segue Minimi Teatri ormai da tre anni, percorso di formazione teatrale che va dall'addizione al movimento scenico, allo sviluppo della musicalità nella voce, all'interpretazione di un testo. Iniziamo la prossima settimana, arriviamo fino al 12 di maggio con il debutto dello spettacolo Nell'inferno le donne. Ho degli collaboratori importanti e bravissimi quest'anno, che sono gli attori Marino Bellini, Andrea Zanforlin, Paolo Rossi, Licia Navarrini, il musicista Luciano Borin, Borin, ma soprattutto Claudio Ronda, che collabora, supporta e lavora allo spettacolo del 12 maggio, facendo un percorso di preparazione molto consistente su gruppi e masse di persone che speriamo siano numerose. Ecco, infatti questo laboratorio si concretizzerà durante la rassegna donne da palcoscenico. Sì, la quarta edizione di Donne da palcoscenico, che inizia il 12 di maggio con questo lavoro, prosegue il 20 di maggio con Ambra Angiolini, che interpreta un testo di Stefano Massini, Balkan Burger, e si conclude il 25 maggio con Francesca Reggiani. Siamo con Claudio Ronda, uno dei docenti del laboratorio Minimi Teatri. Come docenti cosa insegnerete ai partecipanti di questo laboratorio? Eh, sarà una bella sfida, perché chiaramente il mio percorso viene con i danzatori, quindi questa volta si tratterà di misurarsi con degli attori e di finalizzare poi il percorso alla messa in scena dello spettacolo. Quindi anche per me sarà, come dire, un percorso molto interessante da fare. E come si svelgerà concretamente il laboratorio? Faremo degli incontri di preparazione, dove lavoreremo sul corpo, seguendo delle linee generali sullo spazio, sul movimento, poi per concentrarsi nell'ultimo periodo invece finalizzandolo invece allo spettacolo, quindi lavorando direttamente in simbiosi con Letizia per creare chiaramente quelle che saranno le scene di movimento per lo spettacolo. Quale esperienza hai provato partecipando a questo laboratorio e cosa pensi di trovare? Vi dirò la verità, è la prima volta che intendo partecipare. Avendo già un'esperienza con un'altra compagnia teatrale di Rovigo, mi piacerebbe provare anche questa nuova esperienza e vediamo che altre emozioni e anche altre competenze in aggiunta mi può dare. È stato un percorso abbastanza difficile, ci ha messo molto alla prova. Abbiamo iniziato con Arianna e il labirinto, quindi assolutamente corporeo. Poi ci siamo sposati l'anno scorso, abbiamo aggiunto la voce. È un bel percorso intenso che ci aiuta a sbloccarci nei punti critici. È interessante e consigliabile, assolutamente sì. Grazie mille. Prego.